5, 6, 7, 8 Eccoci qua, buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi al webinar che facciamo sui miei canali di solito lo facciamo ogni primo mercoledì del mese però questa volta ho avuto qualche problema con l'agenda allora l'ho dovuto spostare ad oggi grazie a tutti intanto per essere qui con me mi fa molto piacere che ne partecipiamo insieme a questa seconda puntata in cui parliamo di Copilot buongiorno Luigi, ciao Francesca, ciao Lorenzo, ciao a tutti pian piano che vedo che state entrando ciao Fabio, ciao Fabrizio, mi fa piacere che siate tutti qua ciao Marco, ciao 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 a tutti bene vi ricordo che siamo dal vivo e quindi potete fare qualsiasi domanda sull'argomento di oggi appunto Microsoft 365 Copilot rispetto all'altra volta in cui abbiamo visto molto come funziona su Word, su Outlook eccetera oggi vediamo un po' come Copilot sta evolvendo vediamo una modalità di adozione che sta andando benissimo sui nostri clienti e che vi volevo condividere in più vediamo l'architettura che secondo me è molto molto importante capirla bene per capire poi come approcciarsi all'utilizzo di Copilot e soprattutto vedremo anche qualche esempio poi su Teams ok? Benissimo, quindi direi di iniziare parlando del primo argomento le community di pratica vi volevo far vedere diciamo il modo in cui stiamo approcciando l'adozione di Microsoft 365 Copilot nelle aziende nostri clienti perché questo? Perché stiamo facendo questa adozione diciamo diversa? ops, ho sbagliato, non è qualche esempio di utilizzo, mannaggia a me non è Copilot Masterclass ma eccolo qua, le community di pratica oh bene, scusatemi perché c'è una cosa molto importante da capire quando ci si approccia a Microsoft 365 Copilot è un approccio completamente diverso da quello a cui sono abituati i nostri colleghi fino ad oggi perché è diverso? Perché le persone finora sono abituate a fare delle ricerche in modalità diciamo parola chiave quindi io scrivo maternità oppure busta paga e poi mi guardo i risultati della ricerca fatta in Teams nella posta sulla internet eccetera scelgo il risultato che secondo me è quello migliore e poi vado a vedere se poi dentro il documento dentro la tale mail, dentro la conversazione di Teams trovo quello di cui ho bisogno con Copilot invece c'è un approccio completamente diverso che è quello del prompt per cui io devo scrivere una domanda fare in modo che la domanda abbia un contesto sia più specifica possibile eccetera eccetera tutti buone pratiche che trovate in un video specifico all'interno del mio canale e il risultato mi viene dato già in forma conversazionale quindi come se veramente stessi facendo una conversazione con un collega e di fatto quello che vediamo nei nostri clienti è che questo nuovo approccio non può essere gestito con l'assignazione delle licenze agli utenti una formazione di una, due o tre ore quello che vuoi e poi tanti saluti usa Copilot per i fatti tuoi no, questo non funziona ed è il motivo per cui stiamo proponendo a tutti i nostri clienti le community di pratica la community di pratica non è nient'altro che una community in Viva Engage di fatto dove invitiamo i nostri clienti e da una parte le persone sanno le persone che accedono a questa community sanno che possono chiedere qualsiasi domanda possibile immaginabile per il corretto utilizzo di Copilot se c'è qualcosa che non riescono a fare o magari il prompt che non è perfetto non gli funziona possono scrivercelo e i nostri esperti rispondono a tutte le loro domande questo chiaramente è molto utile anche per sgravare l'IT da un momento in cui le persone iniziano a usare Copilot magari non hanno seguito perfettamente la formazione magari non hanno quell'ingegno che serve a fargli scrivere il prompt migliore possono fare la domanda nella nostra community e noi li rispondiamo immediatamente su tutto e per tutto dall'altra parte con l'accesso a questa community diamo anche un flusso continuo di nuovi contenuti abbiamo i nostri video le videopillole sono video di meno di un minuto che spiegano le varie funzionalità di Copilot in multilingua abbiamo un sito dove mettiamo tutte le domande e risposte che abbiamo collezionato in questo periodo di adozione a Copilot le più frequenti fondamentalmente e ne abbiamo già più di 100 che servono a rispondere a quelle che sono i dubbi diciamo più comuni da parte delle persone diamo accesso alle registrazioni di tutti i nostri webinar noi facciamo un percorso di webinar formativi sono più o meno di 30-40 minuti l'uno però verticali sull'utilizzo di Copilot in Word Copilot in Outlook Copilot in PowerPoint eccetera eccetera e in più diamo l'accesso al nostro corso in modalità micro learning vi faccio vedere degli esempi questa qui è un esempio della community di pratica vedi da una parte le persone possono fare la domanda e noi le rispondiamo diciamo con velocità e questa è una cosa carina perché vediamo anche che magari le risposte vengono date da qualche altro collega qualcuno che ha avuto lo stesso problema dice la sua così da creare una vera e propria comunità su questo argomento cioè Copilot dall'altra parte noi punzecchiamo gli utenti dei nostri clienti con questi nuovi contenuti ne scriviamo uno in due giorni che variano tra la videopillola che è questa che state vedendo oppure dei prompt carini che proponiamo diciamo a tutti gli utenti dei nostri clienti per continuare ad essere accompagnati durante la prima adozione a Microsoft 365 Copilot quindi solitamente due o tre mesi diciamo dopo la prima formazione questo è l'esempio della community di pratica vi faccio vedere poi invece il video il video il corso in modalità micro learning che stiamo dando ai nostri clienti per verificare poi sia per formare le persone in una modalità più semplice sono delle piccole micro lezioni usate, create tramite il nostro tool di micro learning che vi permettono di formare le persone all'utilizzo di Copilot però senza fargli il solito webinar o comunque la solita formazione in presenza di due o tre ore che poi le persone escono da lì non si ricordano più nulla ma il contenuto viene diviso in pillole ogni pillola ha dei formati diversi abbiamo il formato audio abbiamo le immagini, i puntini il formato video abbiamo questi quiz interattivi che sono una modalità molto carina per apprendere qualcosa cioè io provo a rispondere anche se non so poi la risposta il sistema mi dice qual è la risposta giusta abbiamo poi le flashcard con gli slider possiamo mettere sempre le nostre video pillole di cui vi parlavo anche prima la video pillola è molto carina la state vedendo adesso perché noi la creiamo facendo questo gioco di screenshot e di frasi hanno tutta una musichetta che adesso non sentite perché non l'ho rimandata sullo streaming però sono diciamo molto semplici da utilizzare e siccome li facciamo con questa modalità dello screenshot con sopra il mouse che si muove a fare animazioni le possiamo poi proporre in qualsiasi lingua e devo dire che per i nostri clienti su cui stiamo ad oggi seguendo i percorsi di adozione di Copilot stanno andando molto bene questi video e li abbiamo già in 3 o 4 lingue tra italiano, inglese, tedesco e francese questo invece che vedete è il sito intranet dove raccogliamo tutto il contenuto formativo e informativo su Mexico 365 Copilot per l'adozione abbiamo le novità postiamo un nuovo prompt ogni settimana abbiamo l'elenco di tutte le pillole l'archivio di tutte le pillole un archivio di prompt pronti all'uso in aggiunta a quelli che dà Copilot Lab abbiamo poi chiaramente l'accesso alla community di pratica un po' di informazioni in generale sulla privacy come Copilot gestisce la sicurezza dei nostri dati sponsorizziamo anche chiaramente in questo sito la stessa modalità di adozione anche per Mexico 365 quindi su Teams e così via questa invece è la modalità di accesso alle domande frequenti adesso ce ne sono alcune solo dimostrative chiaramente però come vi dicevo ne abbiamo già oltre 100 che aiutano i vostri colleghi a non ripetere sempre le stesse domande e a prendere informazioni in una modalità diciamo un po' più un po' più smart e queste sono le community che abbiamo ad oggi ne abbiamo solo una quella di Copilot in inglese e in italiano e come vi dicevo c'è l'accesso a tutti i nostri webinar pre-registrati 40 video pillole multilingue l'accesso al nostro tool di micro learning per il corso di Copilot chiaramente che dà anche ai nostri clienti poi un report dei vostri colleghi che hanno partecipato al corso e che magari hanno dato il quiz finale se l'hanno passato oppure no quindi tutto tracciato l'elenco delle FQ l'elenco dei prompt ok quelle che vedete invece poi nella slide sono il resto delle community che stiamo per aprire stiamo puntando molto su questa cosa delle community perché è una modalità che vediamo essere molto molto vincente per dare un'adozione diciamo corretta a strumenti come questi che da una parte non sono i classici strumenti clicca qua clicca là clicca là ma diciamo sono un po' più avanzati e dall'altra parte sono strumenti che vengono aggiornati continuamente per cui è necessario cioè non si può fermare una prima formazione ma è necessario accompagnare i colleghi durante tutto il percorso di utilizzo e noi abbiamo clienti anche che stanno in queste community per 4-5 mesi perché sanno l'importanza di accompagnare i propri colleghi nell'utilizzo di uno strumento come Copilot o in tutti gli altri tool di Microsoft 365 per cui se volete partecipare fate un bello screenshot o comunque inquadrate con la vostra camera questo QR code che così dovete diciamo andate su un form che potete compilare il form è molto semplice l'ho fatto con forms l'ho fatto poi con Copilot in forms non so se lo sapete ma dopo lo vediamo è una novità ed è un form di adesione cioè chi è interessato ad aderire a queste community ok chiaramente l'azienda quindi portando i propri colleghi e avendo quindi un risparmio di costo notevole sull'adozione di Copilot per evitare di sai fare un'adozione un po' più classica ma invece farla con questa modalità più coinvolgente ok basta compilarlo rimarrà anche nella registrazione che trovate sul mio canale youtube per cui niente chi è interessato si iscriva benissimo grazie ancora per essere qua con me oggi siamo in quasi 150 sì sono contento e andiamo avanti con gli argomenti per cui volevo vedere insieme a voi quelle che sono le novità che stanno arrivando all'interno di Microsoft 365 Copilot perché la novità è sì perché fondamentalmente Microsoft ha già iniziato a aggiornare il prodotto e a sfornare nuove cose ok un po' sono state solo annunciate e saranno disponibili a breve veramente a breve si parla di qualche settimana altre invece sono già disponibili e vediamo insieme quelle che sono disponibili mannaggia me ho fatto click sul pulsante sbagliato poco male adesso lo lo sistemo solo non volevo non volevo poi sballare tutto il mio giro di capitoli mannaggia mi devi ecco quindi che parliamo adesso delle novità in arrivo su Copilot bene allora che cosa è nuova su Copilot allora punto numero uno arrivano finalmente nuove lingue sapete che su Copilot ad oggi sono disponibili solamente otto lingue c'è l'italiano c'è l'inglese ci sono le principali europee c'è anche il cinese semplificato ma a breve stanno arrivando 17 nuove lingue quindi questo per ampliare sempre di più l'utilizzo di Copilot all'interno di aziende multinazionali molto molto importante questo poi il Copilot Lab sta evolvendo prima era semplicemente un elenco di prompt adesso ci hanno messo un elenco di prompt più video ci hanno messo contenuti informativi e formativi molto simile al sito che abbiamo visto prima insieme ci stanno copiando che noi abbiamo fatto almeno due mesi prima però ecco contenuti in inglese utili per l'adozione di Copilot molto carina la possibilità di scrivere un prompt ok magari io sono particolarmente ingegnoso scrivo il mio prompt e vedo che funziona lo posso condividere con i colleghi questo secondo me è una cosa molto utile per rendere l'utilizzo di Copilot eccolo qua lo posso sia bookmarkare quindi salvare per me sia condividerlo con i colleghi secondo me questo è molto molto utile poi Copilot sta arrivando all'interno delle app mobile finalmente perché i primi utilizzi di Copilot su mobile erano un po' limitati per cui all'inizio c'era solamente il riepilogo della chat della conversazione su Outlook mobile poi finalmente è arrivato anche su Outlook mobile il fatto di fare la risposta fare la bozza con Copilot esattamente le stesse funzionalità che abbiamo anche su Outlook per il web o sul nuovo Outlook e in più l'ho visto apparire anche in PowerPoint e in Word ok quindi pian piano Microsoft sta aggiornando anche le app mobile in aggiunta Microsoft ha inserito Microsoft 365 Copilot anche nell'app omonima cioè Microsoft 365 quell'app è l'app in cui voi avete accesso a tutti i vostri ultimi dati su Microsoft 365 il feed tutte queste cose qua e in più c'è anche l'accesso a Microsoft 365 Copilot per cui se volete un supporto da Copilot anche quando siete in movimento potete farlo molto molto utile eccola qua l'applicazione c'è un esempio questo mi è piaciuto molto l'aggiunta di Copilot in Forms è già arrivata e adesso lo guardiamo insieme e io l'ho già usata per creare il form che avete visto prima per l'accesso alle community per testarlo fondamentalmente io posso tramite un prompt chiedere a Forms di crearmi una bozza del mio modulo o del mio quiz molto utile perché risparmio una marea di click e in generale l'obiettivo di Copilot è questo cioè farci risparmiare tempo niente di più la stessa funzionalità però secondo me ancora più potente sarà disponibile poi in OneDrive per cui io avrò vedi qua un'iconcina dove posso far aprire il solito pannello con Copilot l'esperienza è esattamente la stessa quindi un'esperienza in app la stessa esperienza che abbiamo anche su Word PowerPoint eccetera eccetera e la posso utilizzare per sia recuperare un po' di informazioni dai miei file per esempio posso fare le ricerche esattamente come posso fare nella chat posso chiedere dei summary su alcuni file eccetera li posso cercare i file con l'utilizzo del mio linguaggio naturale e fare cose di questo tipo vi faccio vedere il video perché questo è super interessante cioè nel mio OneDrive ho una cartella con un elenco di curriculum che sono in formato PDF posso chiedere a Copilot di crearmi una tabella leggendo da i file che ho selezionato nel mio OneDrive e in questa tabella ci devono essere nome e cognome anni di esperienza e skill presi da quei contenuti quindi presi da quei documenti qui è andato avanti velocemente non si è visto il risultato ecco però vedi il risultato carinissimo cioè lui cosa ha fatto ha estratto i contenuti da questi file PDF e li ha messi in una tabella veramente utile bene un'altra cosa molto utile che sta arrivando in questo caso in Word è la possibilità di aggiungere una sorta di recap di summary che ti genera Copilot nel momento in cui io sto condividendo un documento con un mio collega carinissimo perché sai un conto è condividere un file al collega e tanti saluti un conto è chiaramente accompagnare la mail di condivisione del mio file con un messaggio in questo caso Copilot mi aiuta a generare il messaggio e il messaggio viene generato a partire dal contenuto del documento quindi lui mi fa una sorta di piccolo summary che spiega che cosa troverà all'interno di questo documento il mio collega non è male ma mi è piaciuto una buona idea poi questo l'hanno messo in basso ma devo dire non ne capisco il motivo perché questo secondo me risolve un bel problema che c'è adesso con Maxo365 Copilot perché sapete che quando faccio un meeting su Teams se sono io l'owner o se sono diciamo collega dell'owner del meeting quindi l'owner del meeting è nel mio stesso tenant noi vediamo su Copilot l'intelligent recap questo alla fine della riunione e poi soprattutto durante il meeting vediamo la possibilità di utilizzare Copilot per fare le domande domande basate sul contenuto che viene detto dai vari partecipanti all'interno del meeting questa è una funzionalità pazzesca devo dire l'intelligent recap e soprattutto le domande sul sul transcript del meeting sono le funzionalità che io personalmente uso di più assieme alla ricerca diciamo conversazionale di informazioni nelle chat noi utilizziamo tanto le chat di teams sia private che nei canali e le usiamo da tanto tanto tempo e devo dire che ricercare informazioni nelle chat è sempre stato un massacro soprattutto con il mezzo di ricerca standard per keyword queste funzionalità però hanno un problema cioè se io sono un esterno e quindi vengo invitato al meeting come esterno copilot ad oggi non ce l'ho l'intelligent recap non ce l'ho ed è una rotura di scatole adesso io vedo i miei clienti che veramente fanno a gara per chi invita chi perché diciamo se non inviti adesso non hai la possibilità di usare copilot durante il meeting mettendo copilot in stream Microsoft secondo me risolve questo problema perché io è vero che diciamo in tempo reale non avrò accesso diciamo copilot però una volta che ricevo il video con la registrazione al termine della riunione ho la possibilità di utilizzare poi copilot per chiedere un summary del video per fare diciamo la lista degli action item che poi sono esattamente le stesse informazioni che trovo nell'intelligent recap posso fare domande posso chiedere chi ha detto chi ha parlato dello specifico argomento generare anche idee per non lo so fare follow up sul meeting e così via questo secondo me è una bella diciamo una bella novità che stiamo aspettando un po' tutti noi che utilizziamo Microsoft 365 copilot quotidianamente e poi hanno messo un po' di nuove diciamo un po' di nuove esperienze per utilizzare copilot di fatto copilot sta diciamo andando poi su tantissime delle interfacce grafiche di Microsoft 365 questa che vedete è la funzionalità help me to create with copilot no cioè uso copilot per aiutarmi nella creazione di qualcosa e qua diciamo parto con un prompt e lui mi dà un po' di esempi per creare una nuova presentazione per le vendite oppure delle nuove strategie per ingaggiare delle persone durante un meeting eccetera eccetera quindi questa la trovo su Microsoft 365.com è proprio vedete qua è un testino che ho di fianco alla creazione di un documento vuoto di un powerpoint vuoto e così via io lo uso ogni tanto Microsoft 365.com per creare le nuove cose e devo dire che non è il mio punto principale di inizio di creazione di un nuovo file che molto spesso preferisco OneDrive metto il file su OneDrive poi parto da zero però diciamo è una buona è una buona novità ok detto questo c'è una novità riguardo l'utilizzo di Copilot in Outlook se avete seguito i miei canali sapete che finora Copilot in Outlook era disponibile con tutte le sue funzionalità in Outlook sul web quindi Outlook che usi col tuo browser oppure su il nuovo Outlook che è questa nuova applicazione di Outlook a cui pian piano dovremmo passare perché di fatto il percorso è sempre quello Microsoft mette la nuova applicazione poi prima o poi gli dà la possibilità di usare sia la vecchia che la nuova poi prima o poi devi usare direttamente la nuova perché ha 100.000 nuovi vantaggi e bla 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 e invece su Outlook di Office c'era solo una funzionalità per ora che era il coaching coaching di Copilot che non è tra l'altro una delle funzionalità che almeno io uso più frequentemente la uso ogni tanto soprattutto quando devo fare email nuove a persone che non conosco tanto e su cui voglio pesare bene le cose che scrivo voglio pesare bene le parole e lì la uso a marzo ci stanno dicendo che arriverà finalmente anche la possibilità di fare il drafting dell'email su Office e se su Outlook in Office che è insomma abbastanza importante devo dire che nei piani di adozione che stiamo facendo a Microsoft 365 Copilot nelle aziende nostri clienti abbiamo proposto nei webinar iniziali anche un webinar ad hoc per aiutare le persone nel passaggio dal vecchio Outlook al nuovo Outlook perché l'interfaccia un po' cambia ci sono delle funzionalità che sono molto importanti che sul nuovo Outlook ancora non ci sono e quindi secondo me le persone devono essere accompagnate anche in questo passaggio pian piano Microsoft sta mettendo qualche funzionalità anche nel vecchio quindi boh nel senso io in generale consiglio di o passare al nuovo se sei sul client ma soprattutto usare Outlook web non c'è proprio non c'è proprio confronto con l'Outlook di Office però vabbè capisco anche che le persone sono da tanti anni abituate a utilizzare Office per cui secondo me queste funzionalità che pian piano arrivano anche in Outlook in Office secondo me sono comunque utili dai bene poi c'è questa nuova esperienza di Copilot è nuova in realtà io l'ho vista già da un paio di mesi nel mio tenant e fondamentalmente prima cosa succedeva che io dovevo cercare Copilot in Teams dai puntini era proprio un'app di Teams come tutte le app di Teams adesso invece finalmente hanno pinnato la chat di Copilot in alto nelle chat private e secondo me questo hanno fatto bene perché così tutti gli utenti sanno che se vogliono interagire con Copilot vanno nella chat trovano subito Copilot e così possono utilizzare Copilot e magari switchare velocemente tra le chat private eccetera eccetera secondo me questa è una buona cosa poi ci sono un po' di novità lato Admin Center finalmente hanno diciamo migliorato leggermente le metriche l'utilizzo che si possono vedere tramite i report di utilizzo sì all'interno di admin.mex.com questi sono fondamentali chiaramente tracciarle nel piano di adozione io faccio la formazione poi aiuto gli utenti con la community di pratica per dandogli diciamo la possibilità di fare domani domande dandogli ogni due giorni dei nuovi contenuti delle nuove idee per sfruttare Copilot nella 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 loro quotidianità però poi devo effettivamente tenere traccia no eh dell'utilizzo e con questi nuovi report si potrà fare si può fare già adesso è molto importante tenere traccia dell'utilizzo perché Copilot ha un costo di fatto è un costo che deve essere ben valutato in tutte le aziende così almeno potete verificare che questo costo effettivamente diciamo sia sia utile questo perché Copilot poi lo vedete in un video che ho già pubblicato sul mio canale Copilot basta che lo usi diciamo un po' su Teams un po' su Autoc un po' su Word e in un paio di giorni hai già diciamo rifatto il suo il suo costo in termini di quanto tempo hai risparmiato per fare altre attività però bisogna usarlo e questo è un po' il motivo per cui sai proponiamo le community di pratica eccetera eccetera vedo che su queste su queste novità non ce ne sono altre sono poi diciamo più tecniche più tecnologiche vedo però che abbiamo qualche domanda e direi di rispondere allora David chiede queste novità sono già attive oppure sappiamo quando saranno lanciate allora un po' sono attive perché per esempio Copilot Inform c'è già e adesso lo vediamo funzionare un po' stanno arrivando e arriveranno tra marzo aprile comunque se guardi il post di Microsoft trovi diciamo tutte le indicazioni e in generale consiglio sempre di tenere un occhio sulla roadmap di Microsoft 365 così da vedere quando arrivano queste funzionalità poi Enzo dice l'interfaccia cambia parecchio e allora un po' è vero il primo approccio è che cos'è sta roba è diversa e devo dire che sul nuovo Outlook ci sono dei settings su layout per riportare la vista a quella che è più simile al vecchio Outlook e noi stiamo consigliando di fare subito questi cambi così che ti ritrovi un po' meglio però sì ed è il motivo per cui facciamo queste formazioni poi Emanuele chiede buongiorno perché se carico un file su OneDrive SharePoint solo dopo un paio d'ore lo vedo disponibile in Copilot per interagirci questa è una bella domanda e ti rispondo dopo Emanuele parlando dell'architettura così capiamo bene come funziona Copilot e riusciamo a rispondere anche a questa domanda però è vero è così più o meno i tempi sono questi prima di poter interagire con Copilot passa uno o due ore poi dipende vabbè dal tenant quanto in uso e così via poi 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 Ezio dice il nuovo Outlook non permette di trascinare file email direttamente dal client è vero allora non puoi cioè il formato ML ad oggi non è non è tanto supportato nel senso che non puoi proprio aprire un file ML dal nuovo Outlook c'è anche questo problema degli allegati è vero Ma Exo però ci ha detto che ha scritto proprio che stanno lavorando per supportare l'ML e quindi diciamo pian piano mi auguro che arriverà anche questa possibilità e poi sempre Enzo dice il problema delle caselle condivise è molto sentito nella nostra azienda è vero anche nella mia e io ripeto consiglio di usare Outlook Web da tantissimi anni su Outlook Web le caselle condivise ci sono si può fare tasto destro per raggiungerla e arriveranno a breve anche sul nuovo Outlook non vi preoccupate perché chiaramente dovete cioè nel senso Microsoft non può togliere una funzionalità così utile da uno strumento così tanto utilizzato poi sempre Enzo anche la lentezza del nuovo Outlook è rilevante ma allora io questo non l'ho visto lento devo dire la verità l'ho visto anzi più veloce del vecchio e ti consiglio però di passare ad Outlook Web Outlook Web secondo me non ha non ha uguali su Edge su Chrome è indifferente benissimo passiamo a Forms vi volevo far vedere come funziona Copilot in Forms perché appunto come vi dicevo sta cioè è già arrivato io che ho Copilot vedete crea un nuovo form e lui mi dice subito draft with Copilot e in questo caso faccio l'esempio che ho fatto direttamente prima per creare il form che vi ho fatto vedere quindi scrivo crea un form in cui chiedi all'utente se è interessato ad accedere ad una community di pratica su Copilot chiedigli nome cognome nome dell'azienda in cui lavora email generate e questo l'ho fatto senza usare diciamo i prompt che lui ti propone avete visto l'ho scritto io il prompt e qui che cosa fa vedi mi ha generato diciamo delle domande il concetto è sempre lo stesso cioè io faccio il prompt lui mi dà una risposta e devo sempre controllare se l'output della risposta mi va bene in questo caso lui ha scritto qual è il tuo nome qual è il tuo cognome in che l'azienda lavori qual è l'auto email l'ha scritto in maniera molto conversazionale no e io qua chiaramente con questa secondo textbox posso aggiungere un prompt per chiedergli modifiche e così via e nel caso in cui scelgo che mi va bene basta che faccio keep it lui mi genera esattamente tutte le domande e in più sotto mi dice guarda se vuoi puoi già applicare uno dei miei layout che ho a disposizione e secondo me mi dà anche diciamo template che sono in linea con quello che è il contenuto ve lo dico perché ho provato altri prompt e in base al contenuto queste proposte di template qua sotto sono completamente diverse l'una dall'altra anche qua chiaramente posso sia usare quella di default oppure usare uno dei template però devo sempre confermare no che la mia scelta con con copilot l'unica nota diciamo negativa che che ho trovato in questa generazione è questa che le le domande con risposta testuale hanno questo long answer che io non uso mai lo uso solo per i campi note e poi che chiaramente devi scegliere tu poi se avere un campo richiesto oppure no non ho provato ancora se gli puoi dire diciamo metti il nome che deve essere richiesto cognome no email richiesta quello non l'ho provato provatelo anche voi che così vedete se diciamo può funzionare chiaramente capite che ci metto niente a creare una base per un un form un quiz con copilot che come dicevo prima è un po' il il diciamo il mantra dell'utilizzo di copilot in azienda ok bene ho finito l'argomento vedo che ci sono qualche altra qualche altra domanda allora Fabrizio chiede Outlook Web non dà la possibilità a gestire diversi mail certo che lo dà basta fare il tasto destro sulle folder aggiungi email condivisa e metti l'indirizzo e se hai permessi te lo aggiunge poi si possono utilizzare dei documenti per generare delle domande Matteo chiede assolutamente sì questo si fa con con copilot in Word e se vuoi lo possiamo anche vedere velocemente perché è veramente molto semplice guarda prendiamo un documento Word che che io ho è dimostrativo è un regolamento aziendale sono circa una trentina di pagine puoi aprire copilot qua sulla sulla destra aspetta che mi tolgo che così faccio vedere cosa posso chiedergli genera un elenco di facciamo cinque di tempo cinque domande e risposte in base al contenuto del documento e lui me lo genera ok la cosa bella che ho visto di diciamo di novità su copilot in Word è che ti tiene la history questo mi piace vedete qua questa domanda io gliel'avevo fatta qualche giorno fa adesso non mi ricordo forse ieri o qualche giorno fa lui riaprendo lo stesso file mi tiene anche la history questo secondo me è molto molto carino che invece fino a poco tempo fa non c'era al che ripeto l'importanza di avere un'adozione che sia seguita nel tempo e non solo una formazione standard un'informazione così all'interno della nostra community viene postata questo è un po' il concetto ecco qua quindi le domande con le risposte basate sul contenuto del documento quindi Matteo spero di di averti risposto bene 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 ah scusami Matteo ho capito ho visto adesso la domanda Matteo chiede scusami intendevo in forms urca questo non l'avevo capito devo dire la verità non lo so non lo so devo vedere se si può referenziare qualcosa di solito diciamo su copilot facendo slash puoi iniziare diciamo a a usare una referenza esterna come un file per aggiungere informazioni al tuo prompt su forms no non si può fare ok quindi in questo caso devi usare ad esempio word o comunque la chat per farti fare diciamo un draft delle tue domande a partire dal documento e poi andare su forms e finire il lavoro quello no non si può fare un ultimo aggiornamento che di cui volevo parlare che secondo me è altrettanto importante poi dopo vediamo qualche esempio di no vediamo l'architettura giusto così rispondiamo anche alla domanda di prima è questa novità che arriva per quanto riguarda il cono di visibilità che ha copilot sapete che la chat di copilot ha un cono di visibilità che è legato poi a quello che hai tu come utente per cui lui ti trova informazioni da i file che metti su teams i file di shortpoint i file di one drive le tue mail i tuoi eventi e le tue chat di teams questo è un po' l'elenco delle fonti cosa sta succedendo adesso che le aziende mettono copilot non chiamano degli esperti come noi per l'adozione e le persone scrivono quant'è lo stipendio dell'amministratore delegato bronco file non tira fuori una marea di informazioni perché questo perché magari nel tempo gli utenti hanno creato involontariamente dei gruppi teams pubblici ci hanno messo dentro informazioni di fatto un gruppo teams pubblico è pubblico visibile a tutti e con copilot mentre prima tu dovevi cliccare andare per trovare queste informazioni con copilot è molto più semplice trovare queste informazioni per cui Microsoft ha detto cazzo che casino non tutti usano i consulenti giusti per cui cerchiamo anche noi di mettere diciamo di dare un supporto e trovare una risoluzione per questo problema e allora cosa stanno facendo hanno aggiunto e ancora in roll out non è arrivato a tutti però arriverà a breve questa funzionalità per restringere la ricerca di copilot per cui vedete è possibile fondamentalmente dire a copilot che le ricerche possono essere fatte solo su un certo numero di siti sharepoint siti sharepoint chiaramente comprende anche gruppi teams ok perché sapete che ormai lo sapete dai che i documenti che vengono messi nell'area files di teams finiscono in un sito sharepoint questo ormai lo sapete l'interfaccia poi diciamo di copilot è questa per cui quando sarà disponibile questa impostazione e quando la imposterete chi utilizzerà copilot in azienda può diciamo capire che le sue interazioni sono limitate a un tot di siti il proprio OneDrive è sempre dentro a a questi a questo cono di visibilità perché chiaramente OneDrive di default è personale ok questo secondo me è un improvement che era necessario era necessario assolutamente bene Fabrizio dice grazie non sono uscito a trovare la funzione suggerita ma dopo lo chiederò copilot hai ragione provaci è anche utile anche per questo Lorenzo chiede disponibile una versione free su abbonamenti 365 no copilot è solo a pagamento mi dispiace non c'è non c'è altro modo benissimo andiamo avanti e vi faccio vedere quindi quella che è l'architettura di copilot così che capite bene come funziona aspetta che apro la slide eccola qua eccola qua allora questo è il giro che fa un vostro prompt quindi una domanda che fate a copilot in qualsiasi diciamo delle sue esperienze ma soprattutto nella chat di copilot ok seguiamo un po' il mio mouse punto numero uno l'utente accede all'app di Microsoft 365 e fa la sua domanda che è questo qua user prompt la domanda poi viene passata a Microsoft 365 copilot Microsoft 365 copilot fa poi diciamo questo processo che si chiama grounding un termine tecnico fondamentalmente lui che cosa fa trasforma questa domanda in una ricerca fa la ricerca all'interno del tuo contesto quindi nelle tue email nei tuoi eventi nelle tue chat di teams nei file in cui tu accedi e così via l'informazione che viene diciamo presa viene poi ritornata indietro a copilot che in questo caso usa poi l'intelligenza artificiale che Microsoft ha messo all'interno delle sue piattaforme dopo la partnership con OpenAI che sono questi large language model ne abbiamo già parlato si chiamano così perché sono stati educati leggendo tantissimi testi perché glielo manda perché lui fondamentalmente gli dice guarda queste sono le informazioni che ho trovato gli da tanti testi testi presi dalle mie chat testi presi dai documenti l'algoritmo di AI genera poi una risposta in forma conversazionale che poi è la risposta che 80% finirà poi all'utente finale questa risposta ritorna poi in graph per fare un post processamento ok quindi per magari aggiungere informazioni sul mio contesto se vedete se usate il copilot in Outlook e gli chiedete una bozza di un'email lui finisce sempre con scritto ciao oppure buona giornata Giuseppe quindi col vostro nome e quindi questo Giuseppe chiaramente lo riprende nella fase di post processing per finire poi a riportare il risultato all'utente finale quindi questo è il giro se entriamo nel dettaglio vi faccio vedere effettivamente cosa cioè cosa succede il concetto è questo che il prompt che io faccio quindi la mia domanda viene fondamentalmente divisa in macro argomenti perché chiaramente io mi riferisco a copilot facendo delle domande però l'algoritmo di AI non sa se questa domanda lui la deve rispondere cercando contenuti all'interno del mio contesto oppure se deve rispondere con le informazioni che l'algoritmo ha già al suo interno questo lo rispiego perché deve essere chiaro tutti copilot ha due fonti principali una sono i nostri dati aziendali l'altra invece è la conoscenza che copilot ha già al suo interno intrinsecamente e che è stata appunto generata leggendo tantissimi dati tantissimi testi ok quando vedete che copilot nella chat vi risponde con dei riferimenti o comunque anche su word e powerpoint vi risponde con dei riferimenti significa che la risposta l'ha generata partendo dai vostri dati se invece non mette nessun riferimento vuol dire che la risposta è stata recuperata dalla conoscenza che l'algoritmo di AI ha al suo interno ok questo è fondamentale quindi questa domanda viene fondamentalmente trasformata in una ricerca ok in una ricerca alla fine di parole chiave parole chiave che vengono fatte in questo indice semantico si chiama semantic index il semantic index è fondamentalmente lo stesso indice che Microsoft mantiene per metterci le ricerche sui nostri dati quindi su le email sui documenti eccetera eccetera però è un indice di fianco all'indice di ricerca di default in cui i nostri dati quindi i documenti vengono salvati in questa forma numerica alla fine questa AI generativa è tutta statistica tutta matematica nel senso che il testo viene trasformato in un elenco di numeri per fare in modo che poi le ricerche di quei contenuti in forma conversazionale siano facilitate e che l'algoritmo riesca poi a generare una risposta con linguaggio naturale e quindi questa ricerca viene fatta su Microsoft 365 la ricerca darà dei risultati quindi dei documenti delle email delle conversazioni sulla chat di Teams e così via questi risultati vengono viene preso diciamo nel caso di un documento il pezzo in cui Copilot ha trovato la tale diciamo la tale informazione oppure il pezzo della chat della chat di Teams dove Copilot ha trovato l'informazione che stai cercando vengono rimandati all'algoritmo di AI e l'algoritmo di AI genera e lì usa tutte le sue diciamo la cosa per cui è più bravo cioè generare testo questi LLM sono bravissimi a capire un testo e a generare un testo in linguaggio naturale lui prende questi dati vengono dati in input a un prompt di sistema che voi non vedete il prompt di sistema è ciao sei Copilot prendi questi dati di input che sono relativi a questa richiesta che ha fatto l'utente e genera una risposta in forma conversazionale nella lingua che ha usato l'utente e questo è come il giro del fumo ok ho parlato anche della lingua perché chi vuole che utilizza Copilot sa bene che può capitare che a volte Copilot ti risponde anche in un'altra lingua questo perché magari avete il vostro profilo di Microsoft 365 in una lingua che è diversa da quella che usate per i prompt oppure avete Office installato nella lingua diversa che usate per fare i prompt oppure perché magari nel vostro prompt ci sono tanti inglesismi allora lui capisce che vuoi una risposta in inglese se capita non vi preoccupate non vi allarmate non è Copilot che non funziona ma basta semplicemente aggiungere nel vostro prompt la parolina rispondimi in italiano rispondimi in inglese Enzo dice giustamente a volte mescolare in lingua è vero può capitare però non vi preoccupate cioè siate specifici nel prompt e così evitate questi problemi gli dite proprio rispondimi in italiano e lui ti risponde in italiano cioè dopo non se lo inventa ecco questo era diciamo l'architettura secondo me è molto importante capire questi concetti perché dobbiamo diciamo essere consapevoli di quello che succede sotto se siamo consapevoli riusciamo meglio a utilizzare lo strumento benissimo andiamo avanti vedo intanto che Stefano dice la slide è assuntiva del funzionamento di Copilot poi condividere è sulla documentazione di Microsoft basta andare là e la scarichi vediamo qualche esempio di utilizzo oggi rispetto all'altra volta volevo farvi vedere quello che è l'utilizzo di Copilot durante una riunione di Teams ok aspetta che sistemo bene l'interfaccia così che vi faccio vedere come funziona fondamentalmente adesso ci sarà un casino esatto di visualizzazione perché cosa succede io ho lo stesso meeting che sto facendo con voi su internet via streaming l'ho anche fatto partecipando diciamo a tolgo la web per andare così più semplice l'ho anche fatto partecipando a un meeting sul mio Teams dove ho avviato la registrazione ok innanzitutto vi volevo far vedere questo Copilot ha questa funzionalità carinissima di alert cioè mi ricorda quando mancano pochi minuti al termine della riunione la riunione nel calendario lui mi dice guarda occhio che mancano dieci minuti apri Copilot per farti aiutare a terminare diciamo il meeting e qui se faccio effettivamente applico Pilot lui genera questo prompt vedete qua aspetta aspetta che mi tolgo ecco qua lui genera questo prompt che permette proprio di chiedere a Copilot stesso genera le note per la riunione e in questo caso lui vedi ha generato l'altro è bellissimo perché capisce i vari argomenti che sono stati trattati durante la riunione e nel nostro caso nel nostro webinar ha generato l'argomento sulla community di pratica Giuseppe ha presentato servizio le novità in arrivo su Copilot l'architettura e vedi in effetti ha dato i primi diciamo i macro argomenti e secondo me in questo è bravissimo qui poi chiaramente noi possiamo fare poi ci ha messo pure le attività e sulle attività giusto vedi ha messo compilare il forum carinissimo e ovviamente diciamo per ogni cosa che genera lui ti dà anche la menzione per cui tu vedi il punto del transcript in cui è stata citata questa cosa e chiaramente qua oltre al riassunto io poi gli posso chiedere diciamo qualsiasi cosa quindi per esempio che cos'è una community di pratica lui guarda il contenuto che è stato detto durante il meeting e mi risponde la cosa molto importante che vi ricordate è che questi prompt queste cose che chiedete a Copilot durante un meeting su Teams e rimangono solo per voi ok e non vengono condivise con le altre persone che partecipano al meeting quindi mentre l'inizio della registrazione o l'inizio del transcript è un'azione che viene inviata a tutte le persone che partecipano al meeting le domande che fate a Copilot no sono private viene rispettata la vostra privacy questo chiaramente è super utile perché il caso d'uso arrivo in ritardo a una riunione gli chiedo cosa è stato detto finora oppure non ho capito un argomento che è stato citato da un collega posso chiedere a Copilot di rispiegarmelo oppure ancora viene trattato a fine di un meeting quindi dopo un'ora un argomento viene ricitato diciamo un argomento che era stato citato spiegato all'inizio della riunione io non me lo ricordo posso di farlo la figura di merda per richiedere a tutti una cosa la chiedo a Copilot e così vado avanti questi sono un po' i casi d'uso devo dire che su riunioni diciamo piccole e medie è perfetto su riunioni lunghe ci mette un po' a rispondere però comunque ti dà tutte le risposte io lo uso tanto ed è il motivo per cui mi dicevo ad oggi cerco sempre di essere io di invitare qualcuno e non essere invitato in generale queste funzionalità ci sono quando io abilito la trascrizione devo avere la trascrizione ok non tanto la registrazione ma la trascrizione è la cosa più importante perché lui cosa fa la trascrizione capisce l'audio lo fa diventare un testo Copilot lavora sui testi e lui le domande diciamo le cerca nel testo della trascrizione semplicemente a breve però arriverà anche la possibilità di fare domande durante il meeting anche senza la trascrizione attiva chiaramente sono domande che poi rimangono valide durante il meeting perché poi il meeting finito se non ho la trascrizione non posso più fare domande però comunque è utile è una funzionalità utile per evitare di ogni volta trascrivere sempre il meeting ok benissimo con questo sono arrivato alla fine chiudo questo questo meeting così che mi tengo anche una doppia registrazione e vi faccio vedere un po' quelli che sono i prossimi appuntamenti c'è un disclaimer sul prossimo appuntamento perché rispetto ai soliti meeting che facciamo li facciamo ogni primo mercoledì del mese già questo mese ho fatto un casino con l'agenda il prossimo invece sono in vacanza per cui devo spostare il meeting al 9 aprile che è un martedì ok segnatevelo mi raccomando in questo caso ancora non ho scelto l'argomento probabilmente riparleremo di copilot perché c'è un hype comunque vedo un bisogno incredibile di supporto su copilot per cui è probabile che riparleremo di quello in ogni caso ricordatevi che c'è sempre diciamo questa possibilità su tutti i miei webinar di scegliere voi l'argomento questo è un altro forum fatto con forms se lo inquadrate potete rispondere a un a un quiz no un quiz sì a un modulo che in questo caso è privato nel senso è anonimo potete proporre argomenti anche senza dire chi siete è un peccato perché almeno così se dite chi siete vi cito comunque ci facciamo due risate insieme però in ogni caso sappiate che potete proporre l'argomento questi sono alcuni degli argomenti che sono arrivati ne arrivano sempre tanti e chiaramente se ci sono più richieste su uno specifico argomento è più facile che io ne parlo nei vari webinar vedo che ci sono un paio di domande le guardiamo dopo vi ricordo che per partecipare a questi eventi basta iscriversi alla nostra newsletter la potete raggiungere scrivendo sul vostro browser intranet.ai slash join arrivati in questa pagina in cui potete iscrivervi la newsletter non è diciamo troppo invasiva vi inviamo delle mail solo quando ci sono gli eventi online come questi e prima quindi di salutarvi di ringraziarvi volevo vedere le ultime domande copilot ed excel c'è copilot c'è anche in excel però in anteprima è quello diciamo è il verticale su cui copilot è un po' più indietro e quindi per ora non lo stiamo neanche per esempio spiegando quando facciamo le adozioni di copilot ai nostri clienti quando non sarà più in preview poi lo spiegheremo però c'è ed è molto utile chiaramente perché puoi fare domande sui tuoi dati puoi chiedere la generazione di trend la generazione di grafici e così via allora domandina Enzo se sono in ritardo in una riunione come faccio a chiedere copilot di riassumere dal momento che molto probabilmente non ho creato io quel meeting e allora dicevo che lo dicevo prima potete usare copilot nel meeting solo se siete un owner oppure un collega dell'owner quindi se l'owner della riunione è un vostro collega allora puoi entrare in ritardo dalla riunione e chiedere a copilot il recap se invece sei un esterno non lo puoi fare semplicemente Michele hai già creato un plugin per chiedere a copilot di fare il summary di una lista specifica di sharepoint assolutamente sì e li abbiamo già e tra l'altro la parte di estensione plugin è secondo me allucinante è veramente bella ti apre un mondo veramente di possibilità noi li stiamo già facendo per i nostri clienti e se qualcuno è interessato chiaramente iscriveteci trovate qua tutti i nostri siti con tutte le modalità insomma per contattarci grazie a tutti per essere stati con me anche oggi e vi auguro un buon pranzo ciao ciao un buon pranzo 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 un buon pranzo